Quanto c'è di follia in questo nuovo show? Tanto. Allora, è una citazione che attribuiamo a Basaglia, ma anch'io, pensavo fosse sua. In realtà avevo visto un'intervista della figlia in cui raccontava che è una citazione di una canzone di Caetano Veloso, che però il papà ha trovato molto comune alla sua filosofia, al suo lavoro, e quindi poi l'ha fatta sua. È una frase che mi gira in testa dalla prima volta in cui l'ho sentita. C'è tanta follia perché andiamo in questo programma a parlare col pubblico, con la gente. Il vero protagonista di questo programma è il pubblico qui da noi in teatro, nella piscina qua fuori, per le strade della città, perché manderemo anche i nostri ospiti in giro per le strade, in modalità un po' candid camera, a rapportarsi con le persone che incontrano. E quindi vengono fuori delle situazioni molto divertenti e, come la frase racconta, guardati da vicino nessuno è normale. Qual è la tua follia, invece, che non hai mai dichiarato? Allora, non l'ho mai dichiarata perché non ci avevo mai dato troppo peso, non ci avevo mai pensato. Nella costruzione di questo programma tutti noi del gruppo ci siamo interrogati su quali sono le nostre piccole stranezze, le nostre piccole manie. Io mi sono reso conto di questa cosa un po' imbarazzante che sto raccontando in questi giorni. Tendo a non mettere mai scarpe da ginnastica nere, perché altrimenti se camminando distrattamente butto lo sguardo verso terra, lì per lì mi sembra che mi abbiano rubato i piedi. E quindi questa cosa qua mi dà molto fastidio e non riesco a vedermi e uso solo scarpe bianche. Perché da vicino nessuno è normale. Senti, uno degli ospiti di cui si è parlato è il tanto discusso Fedez. Volevo capire in qualche modo se il suo invito è stato a prescindere, insomma, anche dalle vicende che ci sono state, se tutto il clamore che c'è intorno a lui sull'ospitata o meno ti ha un po' colpito. No, colpito no, perché insomma, Fedez è una persona che spesso attira i riflettori. L'invito è stato molto precedente a questi ultimi giorni. Secondo me va fatto un po' un piccolo passo indietro su quello che è la missione di questo programma, però. È un programma in cui davvero il protagonista è il pubblico e tutti i grandi ospiti che vengono a trovarci vengono a interagire col nostro pubblico, quindi vengono tutti inseriti in mezzo alla gente. Quindi non è una situazione come magari stasera Ciacatteland, dove viene un ospite, ci sediamo, chiacchieriamo, mi racconti. Qui gli ospiti vengono e si prestano a interagire con il pubblico che, senza saperlo, sarà il protagonista. Perché la maggior parte delle persone che coinvolgeremo, anzi tutte le persone che coinvolgeremo in questo programma, nel momento in cui entrano in questo teatro e si siedono, non hanno idea che verranno chiamate e non hanno idea di niente di quello che gli sta per succedere. Quindi era un invito antecedente. Avevamo pensato a un'altra idea per lui, poi in questi ultimi giorni il mood intorno a Federico è un po' cambiato, quindi abbiamo fatto le nostre valutazioni, abbiamo pensato che sarebbe stato giusto magari modificare l'idea iniziale, ne abbiamo trovato e ne stiamo trovando un'altra, però abbiamo pensato di continuare ad averlo nel nostro cast di ospiti. Senti, ogni anno c'è il Toto Sanremo, il tuo nome ogni anno compare e sembrerebbe in pole position Carlo Conti. Carlo Conti che però ha avuto nei tuoi confronti sempre delle belle parole ed è stato anche ospite da grande il tuo debutto sul Rai 1. Ti piacerebbe condividere il palco con lui? Guarda, è vero, Carlo è proprio uno di quelli che all'interno di questo mondo metto nella categoria amici, anche se non è che ci vediamo proprio tutti i giorni, però è proprio uno di quelli che metto nella categoria amici. Quando io sono arrivato in Rai è stato uno dei più carini con me e l'ho sempre riconosciuto insieme ad Antonella Clerici come alcune delle persone più carine nei miei confronti. Quindi mi avevano fatto questa domanda su Antonella, do la stessa risposta su Carlo, è una persona con cui farei qualunque cosa, a prescindere da Sanremo o no? L'ultima domanda invece riguarda la tua permanenza in Rai. È dal 2021 che tu sei in azienda, se non sbaglio. Come ti trovi? Mi lancio proprio flash di questa tua esperienza. Allora, mi trovo bene, mi trovo bene. Poi io sono una persona che di carattere ama i cambiamenti, mi piace ogni tanto prendere una direzione improvvisa e diversa, però qua mi sto trovando bene e secondo me ho ancora qualcosina da fare qui. La Rai è un ambiente particolare, è un ambiente, mi sono reso conto, che ti dà una luce che nessun altro posto ti dà. Quando fai o dici qualcosa in Rai ha un peso diverso da che tu la dica o faccia in qualunque altro contesto, con i pro e i contro. È un'azienda che per quanto è grande, essendo statale, rispetto ai tempi a cui ero abituato, di velocità nel fare le cose, è un pochettino più strutturata da questo punto di vista, è un po' più problematico arrivare in tempi brevi ad avere delle cose, però poi alla fine ci si arriva. Io penso sempre che quando una persona entra in un posto è lei che si deve abituare al posto e non il posto che si deve abituare a lei. Quindi bisogna capirsi, in questi anni secondo me ci siamo capiti e secondo me da adesso in poi è il momento in cui possiamo fare meglio. L'ultima domanda riguardo il teatro. Hai un'idea o pensi di tornare con un tour teatrale dopo il successo del primo? L'hai visto tu lo spettacolo? Sì, l'ho visto. L'hai visto? Dal vivo? Sì, c'eri? Sì, è vero, è vero. Guarda, spero di sì perché mi sono divertito come un pazzo. L'unico problema è che ci abbiamo messo tanto a scriverlo, quindi adesso devo trovare la finestra di tempo in cui scriverne un altro, però un po' di idee ci sono. Lo voglio fare assolutamente perché è stata un'esperienza magica e che ti lasciava quella sensazione di finita la serata, la gente si era divertita, avevano riso e tu andavi a letto sereno, che è una sensazione che la tv non ti dà molto spesso, quella di poter andare a dormire la sera stessa, devi sempre aspettare il giorno dopo, la mattina dopo. Invece quell'immediatezza lì del teatro è stata stupenda, quindi spero di ricominciare, sì. Anche perché non ci sono i dati Auditel ma solamente i biglietti venduti. Sì, però i biglietti venduti, quelli si conteggiano proprio, devo dire che da quel punto di vista è andato tutto bene. Grazie.